Era scomparso da casa ieri sera il giovane studente ventenne, il cui corpo senza vita è stato trovato questa mattina sulla spiaggia di Pescara. Immediate le ricerche delle forze dell'ordine, subito dopo la denuncia del papà. A segnalare il cadavere tra gli stabilimenti balneari La Prora e La Vongola, un uomo che stava facendo jogging poco dopo le 7. Immediato l'arrivo dei sanitari del 118 e degli agenti della squadra volante, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dello studente. Secondo una prima ricognizione cadaverica, il giovane sarebbe morto per annegamento. Sul corpo non sono stati riscontrati segni di violenza. L'ipotesi più accreditata dagli inquirenti è il suicidio. Pare che il ragazzo soffrisse di crisi depressive. Il PM ha comunque disposto l'autopsia.